Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video. Grazie. Se sull'Italia occidentale entrerà aria molto fredda proveniente dal nord atlantico, quest'aria fredda incontrerà l'aria calda situata nel sud Italia e l'incontro delle masse d'aria calda e fredda negli strati superiori dell'atmosfera darà luogo alla formazione di temporali molto forti, che saranno accompagnati da venti e grandine, con il rischio di piene, che saranno più forti nel periodo serale. Quindi domani e mercoledì temporali molto forti su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania temporali su varie zone di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto. Le piogge saranno più forti al centro Italia, soprattutto sulle coste del Mar Tirreno e fino al nell'estremo nord e anche sull'isola della Sardegna rischio di temporali improvvisi. Invitiamo quindi tutti i cittadini a stare attenti, a restare a casa e a non uscire di casa, se non strettamente necessario, soprattutto mercoledì sera. Il maltempo e i temporali saranno più forti. Giovedì e continueranno almeno fino a venerdì? Un'altra cosa importante su cui cercheremo di aggiornarvi più tardi.